Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oh, siamo finalmente qua Tornati con i video, si raga Problemi a parte, diciamo Ehm... Andiamo subito a fare una partita in singolo Oggi andremo appunto a testare, a ritornare con... Ehm... Capitano America, esatto Faremo il video dedicato di Castel America In cui prenderemo soltanto le armi bianche, blu e rosse Che non so che rarità sia E rosse sono le armi mitiche barra leggendarie Comunque, questo, facciamo, facciamo così Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Perché, lo so, lo so che non porto video da un po' Ma fidatevi che c'è un problema C'è stato un problema nell'ultimo video L'ho portato, mi sembra, un po' di tempo fa Comunque, se volete tanti video Mi raccomando, lasciate un like Un bel like, iscrivetevi a questo canale Iscrivetevi al canale di Padre dei Zavoli Penso di portare, raga, anche Brawl Stars Avete capito bene Se lasciate un sacco di like Voglio che adesso stoppate il video Andate a lasciare subito il like Che però rapidi, eh Perché Non ci dovete mettere troppo Allora arriveranno presto anche i video Su Brawl Stars, spero Quindi Voi Cioè Voi datemi un voluto Sotto i commenti A Capitana Erika Da 1 a 10 Ovviamente questo voto Influencerà L'arrivo di Brawl Stars O l'arrivo di nuovi video Quindi Sapete già Cosa votare Ok, Capitana America A parte, raga, che è l'acqua Porca miseria Ma guardate i mali molesti Sta ritornando Dall'altra è tornata rapida, raga Cioè, raga Qui in questa zona C'era un botto di acqua prima Anche qui era tutto sommerso Vabbè Raga, guardate il pozzo traballante È cambiata Vabbè Noi siamo Capitana America In che città? Andiamo Andiamo Nella città Dove ci sono gli scagnossi Dell'idra Perché Sapete, no? Che cos'è l'idra Spero per voi Che sappiate Che cos'è l'idra Perché Se voi non sapete Che cos'è l'idra Siete dei pazzi Siete dei pazzi Cioè Veramente Veramente Siete dei pazzi Lì tra l'altro Ce ne è già uno Vabbè Va bene Ehm C'è miseria Capitano Distruggete Gli scagnossi Dell'idra Raga Vediamo Se Capitano America Sarà forte E uno L'ha già distrutto Ah Ah Raga Ops Mi sono appena Reso conto Della challenge Vabbè raga Prima di trovarlo Posso andare Mi sono appena Reso conto Che io non ho una R Devo togliere La compatta Allora Qui abbiamo i barili Slurp L'armi Anche le possiamo usare Raga Perché c'è C'è anche un po' Bianco Capitano America Insomma Sì Le possiamo usare Le armi Bianche Il mio spero è Ritrovare Armi Blu Dateci Armi Blu Entriamo Ragazzi Nella fortezza Dell'idra Tan 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 Ma ragazzi ma per penetrare Nella fortezza dell'Hidra Dobbiamo traversirci Come scagnanti dell'Hidra Sembrano scagnanti dell'Hidra in vacanza A kill fatta Cabe elettronica dell'autorità Ma la vera verità Dove ho l'arma mitica? Ragazzi ma io sto Veramente sto esplodendo Ah però l'armi blu di sto tizio Le posso prendere è vero Sì raga Almeno queste Qui c'è una cassa raga L'ho notato solo ora che qui c'era una cassa Asciamo perdere va Tra l'altro bellissima Ma l'ho cambiata raga Cioè perché a me sembra Allora ragazzi Altri filini Altri passi Ma da dove vengono Questi misteriosi passi Ma ragazzi è una cosa Un po' inquietante in realtà Però vabbè Sono un genio io eh Ok raga Che smitraglia Che smitraglia Che smitraglia Sembra una caccia all'uomo Sta sopra ma Ma dove sta sto qua Porca miseria raga Non riesco Non riesco Ah ha trovato Corbacchione C'era lui l'atomigan no? C'era lui No raga Ce l'aveva lui L'atomigan Raga ma ce l'aveva Boh vabbè Vabbè raga Non l'ho capito Sinceramente Non ho capito Non ho capito proprio niente Vabbè Ehm Ragazzi al prossimo video Va Eh sì Direi che ci vediamo Al prossimo video Sì 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 Comunque al prossimo video Bella raga Bella raga Bella raga Grazie a tutti